Non lasciare solo la Grecia, ma al contrario sostenere il braccio di ferro messo in campo da Alexis Tsipras. Domenica, grazie al referendum indetto, saranno i cittadini a decidere il futuro della propria economia contro le richieste dell'Europa e l'economia e i diktat della Germania. Pescara si marcerà con una manifestazione indetta da Rifondazione Comunista, CGL, SEL e l'altra Europa con Tsipras, oltre ad altre 17 associazioni. Per dire sostanzialmente che il governo greco ha ragione perché questa politica imposta dal Fondo Monetario Internazionale, dagli altri governi dell'Unione Europea e dalla Banca Centrale Europea sta producendo soltanto l'aumento della disoccupazione, la privatizzazione di tutti i beni comuni, la precarizzazione del lavoro, lo smantellamento dello Stato sociale. Contro tutto questo il governo di Siriza e Tsipras è l'unico in Europa che prova a fare una politica diversa e l'Unione Europea sta attuando delle misure di terrorismo finanziario nei confronti del popolo greco per bloccare la possibilità di un cambiamento in tutta Europa. Quindi una cosa deve essere chiara, il popolo greco sta lottando anche per noi. L'Italia dal canto suo, e secondo le dichiarazioni del premier Matteo Renzi, si troverebbe al sicuro, lontano dal rischio che affronta la Grecia, ma spiega selle e rifondazione l'economia del paese è stata impoverita dalle misure di austerità della Troica, facendo aumentare enormemente il suo debito. Il problema riguarda anche l'Italia, perché le politiche di austerità imposte dalla Troica stanno provocando disoccupazione, povertà e precarietà anche nella nostra Italia. Quindi c'è la necessità che anche noi ci rendiamo conto che questo referendum greco non riguarda solo il popolo greco, riguarda principalmente il popolo greco perché deve dire no alle politiche imposte dalla Troica, però riguarda tutta l'Europa perché noi abbiamo un'idea diversa per costruire un'Europa democratica e solidale.